è più facile di quello che credi ciao e benvenuti sul canale miss biancola il canale dell'illuminazione del credo e poi vedo credo e poi vedo che vi guiderà attraverso la conoscenza e applicazione in maniera efficace della legge di attrazione e soprattutto vi aiuterà a raggiungere a farvi capire come poter raggiungere tutto quello che desiderate ottenere tutto quello che desiderate ok oggi andiamo a parlare di un qualcosa di estremamente importante ma prima ancora iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e soprattutto se avete beneficiato già di altri miei video insomma iscrivetevi al canale e cliccate l'iconcina della campanella così ricevete gli aggiornamenti inoltre mettete il like mettete pollice in su così si propaga il video e riesce a raggiungere altre persone che hanno magari bisogno di sentire questo messaggio così come voi siete giunti a me detto questo fatto questa premessa mi trovate anche su facebook e instagram dove post ogni giorno un sacco un sacco un sacco di messaggi quotidiani di rafforzamento di positivi e così via insomma vi conviene e oggi appunto vi vado a parlare del pilastro le fondamenta la base della vostra vita vi vado a parlare di credo e andiamo a parlare come poterli disarmare quindi voglio belli pimpanti e prontissimi a lavorare su voi stessi perché non è una cosa che quelli stanno lì da tantissimo tempo tanto tutta la vostra vita è formata dai vostri credo andatevi a rivedere i video passati dove ne ho parlato ossia dove vi ho parlato della realtà che è praticamente il riflesso di ciò che noi crediamo la nostra realtà e io l'ho capito fino all'anno scorso ammetto che non avevo afferrato questo concetto in parte ma non al 100% quando l'ho afferrato al 100% al 100% ragazzi non vi prendo per in giro perché perché dovrei mentire la mia vita cioè ero tipo aiuto che sta succedendo aggrappato aiuto che cos'è questo momento del vento del cambiamento cioè è tipo ragazzi se avevo portato se è tipo se indossavo degli occhiali che mi facevano vedere su un colore solo poi li ho tolti ho visto che il mondo il mondo ha colori li vedevo prima magari vedevo tutto sulle gradazioni del grigio ho visto i colori cioè quanto cavolo sono importanti il credo praticamente piccolo ragazzo ma andatevele a rivedere i video perché sono importantissimi quindi rivedetele anche più volte perché magari spesso va a succedere che non si riesce a capire subito un messaggio e quindi va rivisto altre volte va risentito altre volte va risentito praticamente ragazzi tutto parte dentro voi immaginate come se siete dei grossi proiettori e dentro di voi mettete delle bobine i bobini sono i vostri credo e quello si riflette nella tela bianca della realtà ossia da una parte rifletteteci se io non faccio altro che dire per tutta la mia vita da tutta la mia vita che sono un cesso ambulante oppure un poro disgraziato ma è una gioia indovinate un po' la vostra vita non credo che sarà meravigliosa non credo che sarete fermati per strada perché oh mio dio quando è bello come preppito oppure a madonna il conto bancario ogni volta che mi guardo mi dicevo sei più ricco di ieri no o gioia appresso all'altra no e indovinate perché 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 i vostri credo vanno a formare la vostra realtà funziona proprio così perché succede questo andatevi a rivedere i video perché lì lo vado a spiegare specificatamente perché succede questo perché siamo strutturati in questo modo e quando capirete questo quando lo farete vostro ragazzi da così a così ma oggi andiamo a disarmare il credo attraverso un bel esercizio quindi preparatevi ragazzi con carta e penna state con me fino a fine video poi vi metto a fine video la fotina come sempre la foto e così vi vedete lo schemino ma in realtà è estremamente facile perché io sapete che tendo a semplificare di più cioè ragazzi sono come l'immagine non è poetica lo so principalmente gli uccellini che masticano e poi passano ai piccoli ecco io faccio questa cosa perché avrei tanto voluto che qualcuno l'avessi fatta con me invece sono più di vent'anni che sto su questa roba e vi garantisco che non sono di coach solo che c'è un cammino e volevo qualcuno che me la semplificasse come io la sto semplificando a voi allora come iniziamo partiamo subito con l'esercizio allora la cosa prima che dovete fare prendetevi del vostro tempo quindi via i telefonini gente che disturba via trovatevi del tempo ragazzi pure che magari a sera a letto cioè come volete voi insomma e andate ad osservare la vostra realtà o meglio andate ad osservare la vostra realtà in genere prima partite in linea generale com'è la mia vita come va c'è qualche area che in cui zoppico che non mi piace ci sono stati degli eventi che mi hanno lasciato triste sconsolato amare in bocca arrabbiato andate a riflettere non giudicatevi assolutamente non giudicatevi perché il giudicarsi è sbagliatissimo non giudicatevi quindi non andate a pensare eh vabbè perché quella volta è successo così ah no vabbè però meglio non pensare pure no vabbè però pure andate a ruota libera rifletteteci anche che non dovete fare tutta una sessione insieme potete anche riprenderlo durante il giorno cominciate a rifletterci nella vostra realtà osservazione andate ad individuare una vostra area grigia che io come chiamo l'area grigia un qualcosa dove voi avete sempre avuto problemi non avete mai brillato avete sempre faticato sto riflettendo che forse posso farlo attraverso il mio come sempre esempio quindi vi posso aiutare in questa maniera quello che feci io ad esempio io ho riflettuto in questi vent'anni e passa su tutta la mia vita ragazzi praticamente ragazzi ci dovrete lavorare a più riprese ci dovrete lavorare perché ovviamente uno non ha un solo credo nella vita ne ha tantissimi cioè la vostra vita è formata da un insieme di credo è come una puzzle composto da tante tesserine quindi non è una cosa che si concluderà in un giorno un'ora una settimana ci vorrà del tempo per lavorarci quindi armatevi di santa pazienza ma soprattutto rimanete sulla questione che vanno affrontati ragazzi se volete cambiare la vostra vita vanno affrontati quelle bobine barra credo vanno rimosse allora io ho cominciato a osservare la mia realtà prima nel generale come vi ho detto andiamo nella chiave generale così si eh no e ho individuato l'area grigia quella che io chiamo area grigia nel mio caso era nonostante io magari trucco, parrucco, vestito o altro passo sempre per cesso brutta quindi ecco individuazione del credo prima ho osservato la realtà sono andata come a imbuto prima in linea generale e poi ho individuato la mia area grigia dov'è che ho il problema nonostante mi curo mi trucco sparrucco ora mi vedete sempre molto acqua e sapone ma dovete sapere che anni fa ragazzi io non uscivo di casa senza due dita di trucco il capello fatto il vestitino è cioè sia se dovevo andare all'epoca a scuola o al lavoro a scendere a prendere il latte non si usciva stavo sempre truccata sempre vestita cioè ma questo non era perché mi piace truccarmi vestirmi insomma no era per nascondere per cercare di migliorarmi voi capite che ovviamente tutto questo si mi si torceva contro alla grande quindi individuazione del credo ebbene sì nonostante i miei sforzi i soldi spesi sempre cesso rimango e da lì passiamo alla terza fase riflessione ho cominciato a riflettere e non è stato un piacevole non è stato wow non è stato facile perché sapete questa roba questi credo sono così innestati in voi così ormai girano in automatico abitudinari perché sono lì da anni decenni che voi neanche ve ne accorgete capite ci avete fatto il callo come si dice non ve ne accorgete minimamente è come ad esempio una persona una persona che viene dalla campagna che viene a vivere al centro città subito si accorge oh mio dio che è da mattina a sera tutti questi rumori io ad esempio ho una sorella che vive da tantissimi anni fuori vicino alle campagne quando viene in centro quando va a trovare i miei in centro in città ogni volta dice oh mio dio quando è venuta a Londra ha detto oh mio dio ma tu vivi con tutto questo caccia cioè la mattina a sera questo casino idem quando va dai miei oh mio dio ma cioè come fate eppure lei ci è andata a crescere ma ormai si è abituata ormai perché decenni che vive fuori al silenzio della campagna alla tranquillità quindi quando torna qui è tipo oh dio ecco e credo più sono antichi più ragazzi girano proprio in automatico non dovete farci niente tipo con la respirazione cioè non dovete farci niente vanno in automatico ragazzi voi potete stare a fare 30.000 cose vanno lì in automatico quindi non sono veramente semplici sono come come di cercare di prendere dei pesci a mano libera squisciano di qua di là capito? ora quello che dobbiamo fare una volta che li abbiamo però individuati già è un buon punto perché noi ci siamo accorti che ok in quest'area è sempre nonostante i miei sforzi appunto nonostante i miei sforzi trucco parrucco vestiti niente ci deve essere alla base un credo che continua a girare tranquillamente mentre io sto lì presa a cercare di tamponare la situazione ma quel credo è lì e riflette nella realtà la riflessione ho cominciato a chiedermi da che memoria ne ho? quando è stata la prima volta che mi sono sentita dire che ero brutta che ero grassa che ero cesso così via ad esempio sono risalita alle elementari uno dei primi ricordi era le amichette alle elementari che mi deridevano in un angolo a piangere le altre che mi bullizzavano ora ormai si sa l'epoca non si sapeva negli anni 80 che mi bullizzavano quindi ho capito che questo credo era antichissimo ragazzi antichissimo praticamente non vi dico io oggi ne ho 39 anni non vi dico che andavo sono quasi 40 anni ma su per giù comunque più di 30 anni lo era poi ho cominciato a riflettere dopo che ho pensato a da dove nasce più o meno mi ricordo la prima volta che mi è accaduto questo episodio che sono stata presa in giro quando è che ho cominciato a sentirmi così questo serve a capire quando più o meno si è formato il credo non importa se non lo ricordate non importa solitamente riuscite a regolarvi ragazzi guardando la vostra vita a ritroso riuscite a regolarvi a dirvi ma i ricordi che ho è più o meno che ne so quando avevo 10 anni o quando ne avevo 15 ho cominciato a vedere che nella realtà perché quello è il periodo più o meno in cui ha cominciato a formarsi questo credito poi potrebbe anche essere un pochettino più antecedente però più o meno si è formato in quel periodo ma la cosa più importante è cominciarsi a chiedere almeno nel mio caso è stato così ok ero una ragazzina i bambini nascono come una lavagna bianca a un neonato se potesse parlare se voi gli domandate se è bello o brutto non saprebbe cosa rispondervi non ha la concezione del sapere cosa è bello e cosa è brutto il neonato è essere è semplicemente è guardate un neonato è forse la forma più facile da osservare non ha un suo giudizio non ce l'ha verso di sé non ce l'ha verso gli altri è una lavagna bianca se voi se potesse parlare voi gli domandate sei bello o brutto o bravo non saprebbe cosa rispondervi perché il neonato è il neonato piange quando ha fame o fastidio ride quando gli va non è dettato da nessuna regola perché ancora non è stato inquadrato ancora il neonato è una spugna non ha assorbito ciò che non gli passiamo noi genitori per farvi capire quindi mi sono fatta questa domanda ho detto ero una bambina i miei primi ricordi salgono che ero all'elementare quindi che avrò avuto sette anni sei sette come potevo non c'era poi non c'era questa formazione dentro di me cioè i bambini non si vedono belli o brutti quelli piccoli cioè non si vedono sono bambini cioè non hanno una concezione specifica tipo devo essere taglia 38 per essere bella oppure devo avere che ne so i capelli tagliati in questo modo cioè infatti a bambini ci facevano i capelli in tutti i modi e noi non è che eravamo lì cazzo è successo cioè ce li facevano a scodellone all'epoca e non eravamo tipo allora se ci ripensi guardi le foto indietro e dici come io ho permesso però all'epoca quindi sono arrivata alla questione risalendo piano piano la china come si dice il fiume fino alla fonte che era stata mia madre mia madre fin da piccola era scontenta di me era scontenta del mio corpo era scontenta che ero grassa ero scontenta era scontenta di tutto voleva che non esistessi ho passato tutta la mia infanzia a sentirmi ripetere che non dovevo esistere che non dovevo nascere che ero strana sbagliata quindi un bambino piccolo che si sente questa roba giorno dopo giorno cosa fa? la assorbe e comincia a crederci perché i genitori per un bambino sono come Dio se un genitore ti dice tu sei questo tu diventi questo semplice non hanno la questione di poter il ragionamento nostro adesso da adulti a dire ma starà dicendo una stronzata è normale che ora se vengono a dire ma vediamo tu sei brutta così ragazzi ma un bambino è indifeso è una spugna sta lì chiunque viene può scrivere sulla sua lavagna capite? individuato questo ho cominciato l'arte del disarmamento del credo ho osservato che appunto questo mio credo che era antichissimo primordiale che mi portavo dietro che mi era stato instillato frenate ragazzi non portate ancora assolutamente perché ogni persona a ogni persona è stato instillato qualche cosa magari non è nell'ambito non zoppica nell'ambito della bellezza ma zoppicherà in un altro ambito nessuno guardate lì bene tutti quanti hanno una vita anche se sembrano che hanno quella vita tipo instagram meravigliosa non è così ragazzi ognuno combatte con i primi demoni demoni che sono instillati da altre persone è una ruota ragazzi una ruota un passaggio neanche ce ne accorgiamo neanche ce ne accorgiamo di quello che facciamo perché ci crediamo se io a una cosa ci credo è normale che io te la dico come verità se io ci credo che per essere bella devi entrare nella taglia 38 io cioè fino alla morte porta avanti questo che delle convinzioni mandano avanti il mondo quindi non andate perché all'inizio ho trovato profonda rabbia ero stata sabotata danneggiata però poi ho cominciato a riflettere a guardare anche la vita dei miei genitori a dire anche loro hanno un sacco proiettano un sacco di merda perché gli è stata passata dai miei nonni e ai miei nonni chi gliel'ha passata altri i bisnonni capite è una catena così quindi assolutamente non odiate non siate arrabbiati assolutamente perché ognuno agisce secondo i propri credo e i credo sono delle verità per ogni persona variano da persona a persona se io ti dico che credo in questo per me è la verità e su questo ci vado a morire per me è la verità così capite voi lavorate solo su voi stessi non vi preoccupate perché poi il mondo magicamente ma non è magicamente rifletterà il vostro cambiamento se voi proiettate odio riceverete altro odio ragazzi la vita è uno specchio davvero come diceva la vita se sorridi ti sorride come uno specchio è la verità la vita perché il vostro credo viene rimandato fuori quindi ho cominciato il disarmamento il disarmamento del credo che vuol dire disarmare un credo mi sono cominciata dopo che ho messo tutto quanto insieme uno più uno due ossia sono andata a partire dalla realtà l'osservazione ho individuato la zona grigia da lì dalla zona grigia ho visto il credo quindi se di fuori mi dicono oh brutta in me il credo che sono brutta sì io mi credo brutta non mi credo bella perché non mi credo bella per questo e quest'altro motivo datevi perché questo e quest'altro motivo perché sono grassa non sono alta 1,80 che ne so ragazzi ditevi tutti quanti poi andate a riflettere sul da dove nasce che memoria ho delle prime volte che è successo questi episodi se ho memoria di chi me l'ha detto di chi me l'ha estilato da chi l'ho sentito potrebbe anche essere da chi l'ho sentito e così via e lavorare su questo sulla formazione del credo dopodiché passiamo al disarmamento il disarmamento è una volta che uno più uno due quindi ho visto che ovviamente a credo corrispondeva a realtà a credo corrispondeva a realtà a credo corrispondeva a realtà credo vedo credo vedo ho cominciato a chiedermi perché devo continuarci a credere ovviamente dentro di me c'è la coro a stadio di ma perché c'è questo quello quello perché ovviamente il cervello va e ragiona secondo il suo archivio nell'archivio ti dice guarda siccome è successo questo e quest'altro fatto è perché sei grassa e perché non c'hai la taglia 38 e perché non si alta 1,80 e perché questo e quest'altro motivo e perché non c'hai gli occhi su da gatto e perché non c'hai gli occhi azzurri capite? questo richiede molto ragazzi lavoro non è una cosa che torna e vai se ti salvo in un'ora ci dovete tornare giorni, settimane mesi è come andare in palestra non è che di botto vi formate il fisico a big gym cioè ci dovete lavorare ok? ho continuato a chiedermi la domanda perché devo ancora crederci onestamente perché devo crederci? tanto che cosa mi porta? no? che cosa mi ha portato fino adesso se non nel mio caso amarezza tristezza pianti mi ero praticamente lacerata dentro e fuori non vi dico cioè già il fatto che al mattino avevo la pressure la come si dice la aspetta però in italiano la pressione cioè che poi la pressione del trucca di oh mio dio non uscire con questa faccia oh madonna cioè già quello era vivere veramente male ho già il fatto che questo te lo posso comprare questo no non me lo compro questo no solamente oh mio dio no 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 dopo cioè vestivo sempre di nero perché mi avevano convinto che vestiva sempre di nero l'ho detto anche in altri video vestiva sempre di nero il nero se è per i grassi che sfina sfina io sto fisico a gate moss da passata taglia 58 a 38 non c'è mai mai successo andossando pure tutto quanto di nero vabbè sì le fami addams però vabbè quindi no la roba io ero sempre stata tratta la roba colorata non sono niente roba colorata il bianco il bianco il bianco mio dio il bianco ti farà sembrare come un panfilo un cotto un cargo bantente bandiera cioè così capite ora guardate cosa indosso il bianco ragazzi da quando ho cominciato a fare tutto questo io ho perso anche più di 20 chili e io ho fatto decine di diete decine nel corso degli anni ho cominciato da ragazzina non ho mai perso un chilo se li prendevo li riprendevo 50.000 prima o poi devo trovare il coraggio di farmi il video perché ragazzi è una cosa veramente intima questa qua è stato pesante il travaglio prima di arrivare al parto ragazzi io ero arrivata a pesare ben oltre i 110 chili ho toccato anche punte di 115 chili ho ancora chili da perdere ma ne ho già persi cioè già il fatto di essere arrivata da quanto pesavo ho toccato punte 115 essere arrivata senza vergogna a 86 chili e in pochissimi mesi ragazzi perché quando ho sbloccato questa situazione in me è successo il cambiamento non mi ammazzavo più di merendine io per soffocare il dolore dentro di me per coccolarmi sapete lo zucchero per coccolarmi cioè la spesa che facevo prima ancora oggi mi sorprendo oggi quando ho fatto la spesa tutta frutta verdura la spesa che facevo prima era tutto carb tutto carboidrato zuccheri merendine cirbi in conserve cioè e non è che mi forzo è assolutamente è venuto tutto naturale ragazzi perché una volta che cambiate il vostro credo ragazzi le cose fluiscono è come togliere una diga e finalmente il fiume rifluisce ecco quindi andate a cazzo proprio ragazzi a disarmare questi credo quindi chiedetevi perché ci devo continuare a credere perché 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 dovete cercare di formare il nuovo credo anche se all'inizio non troverete riscontro la questione che vi devo far capire e vi farò un video a parte è che non c'è subito il riscontro non è che ok da adesso scelgo di essere bella ok muo esco fuori fammi vedere se qualcuno mi dice abbona no ci vuole del tempo ragazzi ci vuole del tempo capite è come se avete messo una nuova bobbina e comincia a girare comincia i titoli cioè prima che si vada al film è come quando andate al cinema che ci saranno 5 mila anni di pubblicità ecco fate così ci vuole del tempo intanto però dovete insistere è come quando andate in palestra e dici adesso voglio la tartaruga non è che appena due secondi di esercizio dopo una settimana vedi Chris Hemsworth guarda c'è un rivale qua sul campo adesso no ci vuole del tempo però dovete insistere perché la cosa che facevo anch'io era gettare subito la spugna era tipo ok già dai bella io sono bella io sono qui io sono là ok oggi non è successo niente domani no non funziona un cazzo non funziona andatevi a rivedere il video dove vi dico la legge di attrazione non funziona da rivedere quello che dovete fare è formare questo credo e cominciarci a credere il che non è estremamente facile in un video passato uno due non mi ricordo vi ho parlato del fatto che io acquistavo anche taglie anche superiori alla mia quindi io ho sempre portato intorno alla doppia triple xl magliette di xl pantaloni di xl così perché mi avevano detto più indossi largo meno ti si vede le forme che sei lì grasse invece si sa che più vesti grasso più già prima sei praticamente una rotonda adesso diventi proprio air pantheon diventi quindi no assolutamente ho cominciato a lavorare su me stessa ho cominciato a comprare come vi ho spiegato in uno o due video passati una taglia e meno tanto non c'è la molta differenza perché bisogna andare piccoli passi immaginatevi dando un grosso elefante mangialo tutto voi potete cominciare a mangiare in pezzetto in pezzetto invece che cercare di ingoigliarlo tutto quanto ok quindi quello che dovete andare a fare è lavorare su voi stessi per piccoli passi non è che cioè ragazzi non è che vi dico che se mai una gioia adesso mister o miss positività positività assolutamente no non è che vi dico che se fino a ieri siete stati la famiglia cosa come si chiama mercoledì della famiglia Adams adesso che bello no andate però a piccoli passi se fino a ieri vi siete vestiti in nero lutto cominciate ad introdurre un pochettino i colori se fino a ieri come me comprate taglie a 50.000 x x come se non ci fosse come domani cominciate a scendere una piccola taglia io ho cominciato a scendere una piccola 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 fino a che mi sono accorta che io indosso tra la m e la l hello 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 cioè capite ma non è stato tipo perché il mio cervello il mio credito non mi ci voleva portare le prime volte che uscivo con una taglia in meno era tipo ok tutti stavano notando i miei robo di qualcosa capite quindi cominciate a lavorare sulla formazione del vostro credito quindi ripetete e credete nonostante fuori ancora non vedete il risultato non vedete il riflesso voi continuate a dire tra poco lo vedo tra poco lo vedo tra poco lo vedo e ragazzi ciao torna a vedere eccomi qua non vi direi stronzate io quando ho cominciato ho cominciato questo processo guarda ve lo dico precisamente questo processo l'ho iniziato nella primavera del sì primavera inizio estate del 2018 all'inizio ragazzi era tipo non sta succedendo niente poi è successo l'effetto del test in cui ve ne ho parlato un altro video ho cominciato a vedere oh mio dio un rafforzamento di tutta questa roba negativa mi accadevano episodi negativi cioè oh mio dio era l'universo che stava testando il mio nuovo credito a dire ok mia cara come se davanti al professore ah sei pronta in questa materia vediamo un po' se è così ti faccio le domande giuste andate a vedere quell'altro video che è importantissimo che è sempre nel video la legge di attrazione non funziona è lì che tutti quanti smollano quando cominciano questi test smollano tutti io compresa ma all'epoca invece salda anche di vent'anni ragazzi di che mi ero sbombardata di questa roba e anche di altri cambiamenti che ho fatto in altre aree quindi avevo capito come funzionavano o meno le cose come funzionavano ho resistito ho stretto i pugni ho detto cozzo no questo è solo un test vado avanti vado avanti quindi vi spiego vi ho spiegato dall'inizio diciamo dell'estate 2018 fino a gennaio dalla fine gennaio inizio febbraio ragazzi dal nulla ho cominciato ci sono stati grandi cambiamenti finito il periodo di test che non è che ci sta inizio fine ho cominciato dal nulla a cambiare ad esempio io mi svegliavo al mattino mi dovevo strafogare di merendine strafogare letteralmente biscotti di merendine cioè cazzo cioè poi dopo dovevo rimangiare dopo dovevo cioè ragazzi era una cosa allucinante da nulla ho cominciato a non avere più bisogno di strafogarmi andavo al supermercato a fare la spesa e sentivo da dentro di me non c'era tipo un'imposizione assente no che pale di comprare le merendine vabbè una busta insalata in più mi prendo oppure mi prendo guarda che belli sticavo il fiore ma mi prendo una bella cosa a prezzo una bella pasta con un po' di pomodoro a febbraio ho cominciato a vedere i primi risultati di questo quindi i primi cambiamenti ma ancora erano proprio piccolini sarà stato marzo quasi aprile che ho avuto sì marzo aprile che mi ricordo che sono andata ad indossare un pantalone una cosa e mi stava largo ho detto oddio che cosa è successo si è sbrindellato nel lavaggio era una cosa che ho messo da un po' di tempo vado a pesare non mi ero mai pesata sulla bilancia perché tanto la bilancia mi diceva sempre scenni me stai a uccidere cioè mi sono pesata la bilancia ragazzi mi è preso un colpo da quei ero arrivata a pesare sui 108 kg ero ero 10 kg meno 98 sono balzata via dal bilancio ho detto oddio me che cazzo sta succedendo questo era quasi aprile quindi ho cominciato verso gennaio febbraio in pieno sono entrata in pieno ritmo senza accorgermene poi perché poi finalmente la bobbina comincia a girare il credo comincia a girare ragazzi il credo che io ho incominciato a instillare già dall'estate 2018 mi è preso un colpo ho detto oh mio dì che cazzo è successo che cazzo è successo cioè a mia madre oh mio dì che cazzo poi dopo ho fatto uno più non ho detto no ok tipo aprile le dispense tipo fantozzi che c'è trovato tutto il pane che pina aveva l'amante fornaio dal forno dal forno ho detto sì ok ma guarda ho guardato a casa mia non c'era più traccia della tutta l'ammondezza mangiava cibi precotti fritti cose ma c'era un cibo di verdura cosa non mi accorgevo è perché è una cosa che poi entra in automatico fino a oggi è pesata 6 kg c'è ancora altra strada a fare però ragazzi è venuto tutto in automatico con la ripetizione e il rafforzamento ripetizione e rafforzamento ripetizione e rafforzamento dovete continuare a insistere dovete continuare a insistere ragazzi perché non è che magica magica no non è che subito appare dovete continuare ok finisco qui perché è stato veramente pesante questo video e vi metto adesso l'esercizio dovete farlo ragazzi dovete dovete solo così potrete scardinare disarmare i vostri credo e ricostruirli sopra questi credo stanno lì da parecchio tempo è giunto il momento come andare a guardare dentro la cabina armadio e dire questo button basta non me lo metto più è giunto il momento di fare una pulizia di fare una pulizia di fare dei vostri credo che non vi stanno aiutando se non per la discesa ok e niente vi aspetto su questo canale facebook instagram e vi mando tanto amore e ragazzi ve lo meritate vi meritate vi meritate la felicità vi meritate vi meritate tutto vi meritate vi meritate il meglio ve lo dovete dare iniziando però proprio a scardinare questi credo a disarmarli basta ok ce la potete fare ragazzi ce la potete fare vi garantisco assolutamente la vostra vita cambierà non sarà una cosa di vuoi ma cambierà ok bacio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti